Siamo dentro la Transnistria. Abbiamo cinque pazienti già dispersi dentro la Transnistria, non hanno GPS, non hanno internet e non rispondono al telefono. Qua sta iniziando l'avventura. Stiamo entrando in terra di nessuno, non è riconosciuta né dalla Moldavia né dalla comunità europea, solamente la Russia riconosce questo stato. Grazie per la visione! Basta carne di cavallo. Ok, questo lo dico ai sforzi. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Abbiamo fatta! Missione compiuta! Grazie per la visione! Grazie per la visione!